Ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul canale di Football Emotion Italia come vedete siamo di nuovo in studio questa volta per parlare di scarpe da calcio da futsal andiamo ragazzi me lo avete chiesto in tantissimi di fare un video esclusivamente da scarpe da calcetto e scarpe da futsal e oggi siamo qui per fare questo video dove andremo ad analizzare le differenze delle React Gato e le Lunar Gato e poi andremo a concludere dicendo quali sono più adatte al vostro tipo di esigenza perché andremo ad analizzarle insieme andiamo subito con le React Gato delle scarpe secondo me spettacolari perché? perché vanno un po' a oltre quello che sono sempre state le scarpe da calcetto quindi hanno dato un po' di rivoluzione alle scarpe da calcetto perché sono delle scarpe completamente in flying quindi una tomaia completamente in flying lo leggete anche qui sono delle scarpe veramente veramente comode una tomaia abbastanza elastica abbastanza leggera con dei rilievini in gomma per dare molto più grip anche con il pallone come vedete sulla parte del collo del piede una parte più elastica per inserire meglio il piede all'interno della scarpa da calcio devo dire che è una scarpa che si adatta molto molto bene al mio tipo di piede perché ha una pianta abbastanza larga quindi io avendo un piede abbastanza largo si adatta perfettamente a questo tipo di scarpa forse per quelli che hanno un piede un pochino più stretto avrete un pochino più di problemi però comunque è una scarpa comodissima veramente veramente comoda un'altra cosa che mi piace parecchio di queste scarpe quindi del react gato sono questa parte qui che vediamo verso l'esterno e anche qui verso l'interno del piede invece sono delle protezioni quindi che vanno a dare più stabilità quando andremo a fare i cambi di direzione come vedete è una cosa che si alza un pochino rispetto alla suola e va a coprire anche un pochino della tomaia quindi ragazzi secondo me questa è una tecnologia molto importante perché appunto ci dà molta più stabilità passiamo a parlare ora della suola come vedete una suola a livello di colorazione secondo me spettacolare e dove vedete qui sulla parte delle dita e dei piedi delle piccole dettagli che ci danno molto molto più stabilità molto più grip e anche quando andremo a appoggiare il piede ci daranno un po' più di morbidezza quindi andremo a sentire un po' più di comfort con questo tipo di tecnologia a livello di colorazione questo modello mi piace parecchio con questo rosso aranciore salmone e con qualche dettaglio in blu e bianco ma ora passiamo alle lunar gato forse le scarpe rispetto a queste molto più classi sono delle scarpe da calcio che presentano qui una parte della tomaia in pelle non so se riuscite a vedere ovviamente sì con questi rilevini con queste cuciture forse la cucitura a me non piacciono troppo nelle scarpe da calcio perché qualche volta si possono andare a sfilacciare a levare queste cuciture e non mi piace molto però comunque come vedete come vi ho già detto questa parte in pelle naturale molto molto morbida inoltre qui sulle punte dei piedi troviamo questa parte che è diversa dal resto della tomaia che ci dà un po' più grip e quando andremo a colpire di punta ci dà molta più potenza e molto più grip inoltre si unisce alla tomaia in pelle una parte in materiale sintetico come leggete qui Hyperfuse quindi questa parte molto che dà molta più leggerezza infatti se vedete qui c'è anche questa parte un pochino più rugosa è molto molto leggera quindi dona un po' più di leggerezza in quanto come vi ho già detto è una scarpa da calcio in pelle quindi le scarpe da calcio in pelle sono un po' più pesanti del solito Nike ha voluto dare questa parte in sintetico per alleggerirla un po' forse questa scarpa è un po' più stretta rispetto a quella alle React Gato come vi ho già detto prima alle React Gato sono delle scarpe da calcio abbastanza larghe queste sono delle scarpe un pochino più strette e una suola abbastanza più classica formata da tre diversi colori e questi tre diversi colori hanno anche tre diverse composizioni quindi sono tre materiali diversi che ci daranno tre sensazioni diverse quindi ragazzi qui abbiamo una scarpa un po' più classica come vi ho già detto però con tecnologie magari qui non abbiamo e ragazzi concludendo il video vi dico che secondo me la mia scarpa preferita tra queste due è le React Gato perché appunto danno un pochino più di ampiezza al piede quindi io ho un piede abbastanza largo e ho bisogno di queste scarpe da calcio poi inoltre mi piace molto la sensazione del Flyknit abbastanza leggero però comunque anche le React Gato sono delle scarpe veramente veramente comode e che io consiglio a tutti ragazzi abbiamo analizzato insieme le React Gato e le React Gato io penso di preferire le React Gato anche se le React Gato mi piacciono veramente tanto fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono le vostre preferite e se vi è piaciuto il video lasciate un like commentate e ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao